Seconda vittoria consecutiva per il Trinacria, che batte 5 a 4 la ludica Lipari. Tanta sofferenza e tanto patema d'animo soprattutto nel finale di gara, ma i tre punti restano ad Acireale. Gli Acesi giocano sul velluto per i primi 15 minuti di gioco, trovando per ben tre volte la via del gol. Poi subiscono un po' la pressione dei liparesi, che nei 10 minuti finali riaprono la gara pregustando il pareggio, che riacciuffano ad inizio secondo tempo. Trinacria che torna in vantaggio, ma si fa riprendere ancora dagli avversari. Subito ci pensa Kageji ad uscire dal cilindro un colpa d'effetto che ristabilisce le distanze. Finale al Cardiopalma, con il Lipari alla disperata ricerca dell'ennesimo pareggio, ma Fisichella e Capitan Cutuli sventano le minacce.